Cani, in questo momento? Ok. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e se i cani non la smettono di parlare non inizieremo mai questo video a parlare, poi a abbaiare magari. Basta? Grazie, grazie. Ok. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi per ovviare alle mie colpe, ovvero aver ovviamente mancato tutti i miei grandi progetti delle scorse settimane perché ho lavorato troppo e non ce l'ho fatta a registrare anche dei video poi sono stata in giro per l'Italia per il tour di Jay Kristoff perché è stato a Roma e poi a Milano invece lo scorso weekend però nel frattempo mi sono portata avanti e visto che siamo in tanti nuovi sul canale perché siamo cresciuti davvero tanto nell'ultimo periodo forse è il caso di ovviare a qualcuna delle vostre curiosità varie ed eventuali e generali quindi adesso io sfodero la mia arma con tutte le vostre domande e inizierò a rispondere a tutte le curiosità che mi avete chiesto ho fatto una domanda sia qui che su Youtube parto da una domanda su Youtube perché è una, ve lo giuro, la domanda che mi viene più posta nella mia vita outside, in real life, quindi fuori da Youtube e quindi rispondo subito direttamente a questa me l'hanno fatta più di una persona sia Sebastian che Steve Lace, ma penso sia una curiosità di tanti mi chiedono le motivazioni riguardanti la scelta del nome Tiffany o perché ho scelto come nome Tiffany allora io non ho scelto di chiamarmi Tiffany questo non è un soprannome è il mio nome reale, nella vita reale io mi chiamo Tiffany vi metto qua di fianco la mia carta d'identità con tutti i dati coperti tranne il nome non so come dirvi, è il nome scelto da mia madre probabilmente mia madre ai tempi del mio concepimento assumeva sostanze simpatiche se no non si spiega gliene ho fatto una colpa per anni e anni e anni e anni comunque a parte gli scherzi il film preferito di mia madre era colazione da Tiffany molto banalmente mi ha chiamata Tiffany molto facile però come dice lei sempre almeno tutti si ricordano di me comunque questo veramente ci tenevo a farlo subito perché penso sia una curiosità un po' di tante persone tranquille, non ho un ego così smisurato da cercarmi un soprannome cioè il mio ego è già abbastanza grande senza il soprannome ma andiamo avanti parto dalle domande su Instagram allora The Strange mi chiede di che marca sono i tuoi occhiali da vista a tondi giganteschi quindi non quelli che ho oggi e quelli che ho negli altri video questi sono della marca Zelol questo consigli per gli acquisti Nomadi Crider Rossella che saluto mi chiede come si risponde ai commenti sessisti, omofobi e rompi sui social questa è un'ottima domanda allora io tendenzialmente ho un problema nel senso che io mi altero io non ci vedo più dalla ragione io proprio mi si chiude la vena e io divento pazza cioè rispondo in maniera molto aggressiva poi sto cercando di limitarmi perché mi arrabbio veramente tantissimo troppo ho un leggero problema di controllo della rabbia se non si fosse capito e quindi il mio consiglio per persone sobrie è a rispondere con intelligenza perché lo scontro non porta mai a dei risultati quindi rispondere con intelligenza facendo capire magari all'altra persona perché gli insulti sessisti omofobi eccetera sono da medioevo e perché forse è ora di smetterla che non fanno più ridere nessuno oppure che sono un po' loro fuori dal fuori dal tempo ok che dovrebbero un attimo secolarizzarsi dovrebbero un attimo capire che siamo nel 2019 e insultare una persona per il proprio orientamento sessuale per la propria identità di genere o perché semplicemente è una donna è becero e l'altra cosa so che è uno sforzo gigantesco ma cercate di fare educazione cioè rispondete all'insulto con un un tentativo di portarlo nel lato buono non so come dire è la cosa che davvero io sto cercando di fare a tutti gli insulti a parte farli sentire veramente poco intelligenti che è una cosa che io amo fare è un mio difetto è uno dei tanti davvero trovo che sia molto più utile cercare di fare educazione cercare di spiegare perché queste cose spero di aver risposto poi io non ho le risposte a tutto vorrei tanto ma non le ho sarebbe molto bello Herondale the dreamer mi chiede qual è l'ultimo libro a cui hai dato 5 stelline piene e meritate tranne il testamento in caso il testamento non avrà 5 stelline ma ne parleremo in un video a parte ed è ancora difficile per me parlarne andiamo su goodreads facciamo una cosa furba perché io su goodreads segno tutto perché ho la memoria dei miei gatti quando si scordano di aver ribaltato qualcosa in giro per la casa e guarda caso non se lo ricordano ah ok l'ultimo libro a cui ho dato 5 stelline è la straniera della durastanti uno dei finalisti del premio strega perché secondo me è un libro davvero magnifico molto intelligente anche molto originale ed innovativo per alcuni versi non è piaciuto a tutti in maniera così estrema a me personalmente è piaciuto tantissimo ve ne parlo nei miei consigli del premio strega comunque secondo me è uno dei titoli più belli che io abbia letto quest'anno e davvero davvero magnifico molto intenso molto vero e finalmente qualcosa di nuovo a mio parere qualcosa che è che tra l'altro secondo me è molto utile in questo momento da leggere per una parte della nostra generazione ma non solo non so per me la straniera 5 stelline super meritate scorrendo le pagine mi chiede miglior fantasy escluso la bardugo allora la bardugo purtroppo per me è qualcosa che va oltre cioè così i miei fantasy preferiti ovviamente sono harry potter chiaramente sono una grandissima fan di the song of fire and ice di george martin quindi game of thrones in pratica parole spicciole sono una grande fan della rice di tantissimi fantasy classici ma ne parleremo in una serie dedicata quando avrò tempo di finire di scriverla pepi83 invece mi chiede se non vivessi a bologna dove ti piacerebbe vivere se non vivessi a bologna vorrei vivere a bologna io purtroppo sono molto 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 radicata e amante della mia città e per me lo sradicamente è qualcosa proprio che mi crea un'ansia pazzesca e quindi niente io continuo a dire dovete venire a bolo perché bolo is the best place in the world ma dette queste cagate forse l'unico altro posto al mondo dove io vorrei vivere è Brighton per una questione sentimentale mia nel senso che ci sono molto legata alla città ma forse è l'unico posto nel mondo ma io voglio stare a bolo ok soiali mi chiede come è iniziato il tuo amore per la lettura tendenzialmente è iniziato all'elementare perché avevo una maestra bravissima che ci ha instradato in tanti verso la lettura in maniera molto intelligente ci ha fatto proprio amare la lettura poi per me è diventata proprio un'ossessione nel corso degli anni nel senso che nella lettura io proprio mi rifugiavo e quindi è diventato anche quello che per tanto tempo è stato ancora porto abbastanza malato però mi rendo conto che la lettura mi ha salvato molte volte e l'idea che io abbia letto davvero così tanto mi rincuora perché so che in quelle pagine fin dal primo libro che è stato di Roald Dahl io ho trovato una sicurezza per me cioè un qualcosa che fosse fisso mentre tutto il resto magari andava a crollare tutto il resto era una tragedia tutto il resto mi mandava in ansia e questo comunque davvero ho avuto una maestra che ha reso tanti bambini che erano in classe con me tuttora dei lettori perché tra i miei migliori amici io sono cioè la mia migliore amica era in classe con me addirittura alla scuola materna e siamo ancora lettrici fortissimi in tanti in tanti almeno più della metà della classe e questo lo puoi fare solo se hai qualcuno che ti induce una passione così forte allora Fabio Musco mi chiede libri dove si parla di streghe ho due podcast di più di 50 minuti dove c'è una bibliografia immensa quindi ti consiglio di andare a leggere quella Enchanted Novels mi chiede ciao Tiffany che indirizzo di studio hai fatto? questo l'ho detto numerose volte io ho studiato liceo linguistico ho fatto inglese tedesco e spagnolo in realtà era un linguistico sperimentazione scientifica ma diciamo che la parte scientifica non mi è molto rimasta impressa e poi ho studiato lettere moderne in triennale non mi sono laureata dopodiché io ho fatto un corso regionale che si chiama di comunicazione multimediale e mar comunicazione multimediale e marketing no non si chiama comunicazione ah che si chiama comunicazione grafica e multimediale ecco dove insomma ho avuto il mio primo approccio al marketing e ho capito che tutta la mia vita io avevo ragionato in termini che non conoscevo ma che mi sono stati molto utili niente è un corso che ha durato un anno e da lì io ho iniziato a fare stage in comunicazione e ho scoperto di essere quello che faccio ora nella vita mi chiede anche sempre Enchanted Novels hai mai pensato di scrivere un libro? no perché non ne sono assolutamente in grado io non so scrivere e quindi no no ho tante idee ma che rimarranno qua dentro e forse è meglio per tutto il resto del mondo allora Giorgia Guindani mi chiede hai qualche guilty pleasure musicale tantissimi io sono amantissima di tanta musica trash a partire da Rihanna che per me è sopra ogni cosa poi sono una grande fan della dance anni 90 io penso di dare il peggio di me quando c'è la serata trash dance e e niente no tanti pleasure musical cioè la musica pop a me piace molto poi è ovvio che se devo dire quali sono i miei gruppi preferiti non è musica pop non è musica dance ma però io continuo a pensare che l'inno nazionale davvero in Italia sia l'amour toujours di Gigi D'Agostino poi dopo questa mi sono sputtanata definitivamente la mia credibilità è finita poi mi chiede anche la musica italiana fa davvero schifo no assolutamente anzi io ascolto tanta musica italiana dipende che cosa ascolto per dire io sono cresciuta con Battisti Battiato Mia Martini così che erano i preferiti di mia mamma anche tanta altra roba che non mi piace che ascoltava mia mamma però se avevo papà che ascoltava punk mamma ascoltava tanta musica italiana e cantautoriale tendenzialmente che secondo me è fighissima cioè è molto bella poi io crescendo mi sono appassionata anche a un periodo storico più o meno anni 60 e inizio 70 dove c'era tutto il movimento beat e non solo c'era tantissimo rock and roll eccetera italiano che secondo me è fighissimo come i rogues i neutrals i giganti insomma tante robe di quella cosa lì mi piace tantissimo tanta musica italiana femminile soprattutto e poi nella mia adolescenza io ho scoperto il punk italiano che secondo me rimane una delle cose più potenti che esistano nell'universo a partire dai nabat che ho la fortuna di conoscere e vedere abbastanza spesso essendo che provo nelle salette di steno poi mi piacciono tantissimo i negazione il nerorgasmo i cccp insomma tutto quel filone lì che secondo me è i gas nevada gli schiantos cioè non so come dire senza quello probabilmente io non sarei cresciuta scusatemi quando parlo di musica io inizio a parlarne per ore e ora tra i miei gruppi preferiti ce ne sono tanti italiani io amo i Bee Forest amo moltissimo Birth che è una delle mie cantanti preferite penso abbia il progetto più figo in Italia mi piace tantissimo Maria Antonietta mi piacciono i Soviet Soviet i BBC's mi verrebbero in mente 8 milioni di gruppi comunque in Italia si fa musica molto figa magari non a livello non so come dire mainstream che poi in realtà tipo a me Calcutta non dispiace per dire tante altre robe cioè il pop italiano odierno a me fa troppo cascare le palle si può dire su Youtube tanto ormai sto canale è andato tutto in bacca quindi figuratevi però c'è tanta musica figa ecco e niente quando volete le mie consulenze sugli italiani mi hanno dato un messaggio vi mando le cose da ascoltare allora poi mi chiede anche ascolti musica rap se si artisti preferiti si soprattutto cioè diciamo ho avuto una fase sempre in preadolescenza dove mi sono avvicinata moltissimo alla musica hip hop rap eccetera americana degli anni 90 dagli anni 90 anche ai primi 2000 direi che banalmente il mio preferito rimane Tupac mi piace moltissimo Jay Z ovviamente mi piaceva Kanye mi fa schifo ora mi piacevano tantissimi Fugees eccetera eccetera in realtà poi dal hip hop sono passata più che altro all'R&B l'R&B è proprio un genere che mi piace da impazzire soprattutto quello a cavallo tra 90 e primi 2000 pazzesco però sì devo dire che sì stranamente è un genere che mi piace molto mi piace anche molto l'hip hop italiano degli anni 90 Colle d'Erfomento eccetera eccetera mi piaceva insomma tutto questo questo filone qua weirdo ops mi chiede film in cui vivresti per sempre questa è un'ottima domanda alla quale non so cosa rispondere non so se ci vivrei per l'estetica però sicuramente sarebbe un film di Wes Anderson perché alla fine va tutto a finire bene e questa cosa mi rincuora sempre dei film di Wes Anderson e poi cioè io da lui credo di avere tratto proprio la mia fissa della vita del punto di vista centrale sempre comunque e l'inquadratura centrale le mie foto sono testimoni di questa mia difficoltà nel riuscire a spostare leggermente l'inquadratura e se no se no non so come estetica mi piaceva molto il primo Burton però mi rendo conto che non ci vivrei in quei mondi lì anzi scusatemi però io ce l'ho la risposta che mi è venuta in mente ora in realtà forse il film in cui vivrai per sempre tutti insieme appassionatamente che è il mio film preferito perché così non si lamenterebbero di me che ogni tanto parto e canto tutte le canzoni che so che in questo momento io sto perdendo tutta la mia credibilità di nuovo però tant'è allora Luna Verde mi chiede quali sono i tuoi personaggi storici preferiti mio personaggio storico preferito è la regina Victoria perché è una regnante che aveva i quadro coglioni Maria Antonietta sicuramente tanto che è tatuato su tutto il fianco della vostra beniamina mi piace moltissimo Caterina di Russia davvero la trovo un personaggio che è troppo poco conosciuto per quello che meriterebbe e Maria Teresa d'Austria così abbiamo fatto il quartetto delle mie regine preferite allora stories over mi chiede come riesci a fare tutto lavoro libri youtube e magari anche un po' di vita sociale sì ogni tanto ultimamente della mia vita sociale si sta un po' davvero sacrificando perché ho veramente tanto lavoro comunque fate conto che ora per me nella mia vita a me sembra di non fare nulla che so che è folle però io ho vissuto anni in cui lavoravo 19 ore al giorno tutti i giorni 7 giorni su 7 per anni il giorno in cui lavoravo meno lavoravo 12 ore quindi proprio l'idea che io ora possa fare il mio lavoro da casa in qualsiasi punto o in agenzia quando sono in agenzia e che possa riempire il tempo facendo attività piacevoli perché youtube alla fine è un hobby io se decido di non girare magari ci rimango male perché mi stimola moltissimo però posso non girare non succede niente una volta se non andavo a lavorare non pagavo l'affitto e non mangiavo quindi l'idea è veramente così quindi in qualche modo cerco di incastrare sono esaurita sì sì non lo nego però diciamo che a parte davvero il mio lavoro e al quale tengo moltissimo perché io purtroppo sono una malata di lavoro il mio lavoro mi piace così tanto che mi stimola tantissimo quindi tra l'agenzia i matrimoni lo studio fotografico insomma ci tengo tanto tanto quindi insomma a un certo punto si tagliano le cose che ti fanno perdere tempo quindi magari sto meno online anche se il mio lavoro riguarda il lavoro online cerco un po' di condensare non lo so cioè non lo so dirvi come faccio incastro faccio in modo che tutto salti fuori sono molto multitasking io non riesco a fare una cosa e basta nello stesso momento devo farne più più di una ma contemporaneamente Giorgia Ferro mi chiede colore preferito black until they invent something darker allora Vitto192 mi chiede hai letto le trilogie del Dardella Rosa e di queste oscure materie allora il Dardella Rosa purtroppo anche se Clarissa ama molto che è una mia carissima amica no non l'ho letto in compenso queste oscure materie sì ed è una delle mie serie preferite perché è una serie reatea io mi ricordo che quando l'ho lessi proprio non ci volevo credere perché avevano scritto qualcosa di così meraviglioso soprattutto dove si metteva in dubbio il divino è una serie che amo molto vorrei magari parlarne non so neanche se ha senso parlarne però sì è una serie per me molto bella in realtà poi il libro più forte secondo me rimane sempre il primo il secondo mi piace molto il terzo secondo me è il più debole però è comunque una serie magnifica secondo me Pullman ha avuto una serie di idee veramente molto geniali e secondo me qualsiasi ragazzo dovrebbe leggere queste oscure materie poi io sono il diavolo quindi non dovrei dirle queste cose ma sì allora The Strange Taste of the World immagino perché ha tagliato il nick mi chiede quali posti hai visitato soprattutto all'estero qual è il tuo preferito ne ho visitati tanti l'Europa a parte la Francia che non mi interessa scusatemi l'ho visitata parecchio quindi Inghilterra Spagna Germania Danimarca Svezia Norvegia Finlandia cosa mi manca mi mancano poi ho visitato Praga ad esempio a febbraio scorso che non c'ero mai stata che è una città meravigliosa e sono stata in Egitto sono stata in Turchia e basta purtroppo non voglio andare in America non me ne frega niente mi piacerebbe andare in Canada però e nel Sud America detto ciò il mio posto preferito sicuramente è Istanbul perché trovo che sia una città incredibile bellissima è la cosa più bella che possiate vedere non è forse il momento storico migliore per visitarla ve lo suggerisco e mi piacerebbe molto andare adesso faccio piani cioè i prossimi progetti sono quelli di visitare un po' di più l'est Europa quindi Budapest Bratislava le Repubbliche Baltiche mi piacerebbe davvero tanto allora Paola Crowley mi chiede quando e come hai iniziato a leggere in inglese in realtà leggo in inglese praticamente da sempre ho intensificato molto dopo le superiori diciamo perché mi ritrovavo ad avere tantissime serie interrotte perché in Italia c'è stato proprio tipo una sorta di macete nel fantasy dopo cioè io lo chiamo il prima e dopo Twilight il before Twilight BT e AT ovvero tantissime serie classiche che venivano pubblicate le hanno interrotte non le hanno continuate oppure sono finite le copie non le hanno ristampate quindi le uniche cose che si avevano a disposizione erano tante serie che a me non piacevano poi ero super spocchiosa ancora ai tempi adesso sono ve lo giuro molto più e quindi ho iniziato a leggere in inglese perché non trovavo serie che mi ispirassero cioè ho recuperato tantissime roba vecchia e poi dopo a un certo punto come un salame e soprattutto poi negli ultimi anni diciamo che il mercato editoriale italiano riguardo al fantasy era molto molto debole e quindi ho intensificato ancora di più praticamente seguivo solo il mercato estero io non spievo nemmeno cosa uscisse in Italia tra traduzioni brutte serie interrotte cioè le hanno fatte tutte quindi nel dubbio io andavo direttamente all'estero io ho un livello di inglese molto molto alto quindi per me era naturale passare all'inglese non ci ho mai trovato grosse difficoltà e basta basta allora Martina funny dreams pochi immagino perché anche questo è tagliato se non avessi fatto la fotografa cosa ti sarebbe piaciuto fare? io vorrei fare nella vita futura quando rinascerò la contadina lo dico convintamente perché ti spacchi la schiena ma non hai davvero pensieri stupidi su cose superficiali come ho io come abbiamo nel mondo tecnologico perché oltre a fare la fotografa in realtà faccio l'art director in pubblicità non faccio solo la fotografa cioè quella è stata la scusa all'inizio però diciamo a me piace molto il mio lavoro lo amo però ve lo giuro che a volte vedo proprio i limiti di problemi che non sono problemi e giuro voglio fare la contadina so crescere le verdure in maniera veramente molto avevo un orto quando ero piccola che la spaccava lo gestivo io e basta non so fare nient'altro no a parte gli scherzi cosa mi piacerebbe fare mi sarebbe piaciuto diventare quando ero più piccola giornalista io volevo fare la giornalista musicale la critica musicale poi ho cambiato idea nel corso dell'università e volevo entrare a fare la ricercatrice universitaria ma sappiamo tutti come è andata a finire allora Erpete Vincenzo mi chiede trovi dei difetti nelle serie che più hai amato assolutamente sì io penso che nessun libro sia perfetto e che tutto abbia dei difetti per me però devono essere sempre dei difetti molto inferiori rispetto agli aspetti positivi per esempio io non ho mai vergogna a dire che se i di corvi ha una serie di difetti soprattutto nel secondo perché io avrei fatto diversamente la gestione di un pezzo di trama per gli eventi futuri detto ciò rimane comunque una serie incredibilmente scritta e ben pensata quindi è chiaro che tra quella cosa lì che è un ipotetico e i pregi del libro non cambia nulla io poi non mi offendo quando non so come dire viene criticata una serie che io amo molto anche a me piace ascoltare anche dall'altra parte cosa non ha convinto o cosa è piaciuto ad esempio di qualcosa che io invece ho odiato viceversa ovviamente perché mi piace il confronto e poi è ovvio che alcune cose secondo me sono irrilevanti altre cose magari per me sono minori oppure non condivido un certo tipo di parere quindi è ovvio che poi uno si forma la propria idea e mantiene la propria idea però non ci trovo nulla di male a rendersi conto dei limiti o dei difetti delle cose che amiamo di più anzi credo che non possa cambiare ciò che noi percepiamo di una serie tra i due può arricchire il parere diverso può arricchire il sapere e l'essere consapevole di alcuni limiti perché secondo me è stimolante ed è questo che dovrebbe fare la lettura sviluppare il nostro senso critico che noi applichiamo ai libri ma allo stesso tempo applichiamo al mondo esterno non ci trovo nulla di male non penso che mettere in luce i difetti di una cosa che amo allo stesso tempo la vada ad intaccare perché ai miei occhi è comunque qualcosa che ha un grande valore allora Anna Ebe mi chiede una cosa molto interessante hai mai trovato fastidiosa e commercializzata l'essere sempre politically correct di oggi allora la questione del politically correct è molto ampia nel senso io mi considero una persona molto realista e pratica ma anche nell'approccio per dire al femminismo alle questioni di genere alle questioni di parità diciamo in maniera molto più ampia nel senso che mi rendo conto che noi siamo in un tipo di cultura che ha tantissimi difetti che vanno cambiati ma questo cambiarli non può essere semplicemente nasconderli sotto il tappeto non può essere eliminarli senza spiegare perché queste difficoltà ci sono perché queste cose sono problematiche ecco e quindi a volte a me questo politically correct cioè il fare tutto bene dà fastidio perché è innaturale a me piace quando invece si riesce a spiegare un qualcosa partendo magari da una situazione che invece non è politicamente corretta ma anzi è molto discriminatoria e da lì cercare di far capire al prossimo perché certe cose non vanno bene vanno cambiate eccetera so che forse non è l'approccio più diffuso perché di solito c'è quello aggressivo subito questa cosa non va bene giusto e quando si fanno tanti prodotti che sono sempre sembrano confezionati per essere tutti corretti tutti a posto ha fatto il check a tutte le cose non c'è sessismo non c'è questo non c'è questo che è giusto va bene proporre questo tipo di prodotti però bisogna secondo me poi sempre accostarli a un po' di realtà cioè la battuta sessista fa schifo ma fa parte del nostro diciamo fa parte di una grossissima fetta della nostra popolazione italiana quindi piuttosto che eliminare e fingere che tutto ciò non esista tra i due giocare su quella battuta e risvoltarla farla sentire al contrario renderla pungente e renderla ironica verso chi invece te la pone è un approccio che mi stimola di più e trovo più funzionale più forte anche perché ti fa capire perché quella cosa è sbagliata spero che sia chiaro è un discorso molto complesso e forse io non sono abbastanza lucida da farlo in maniera coerente allora Andrea Salviani invece mi chiede quali sono i miei classici preferiti ne ho già parlato diverse volte sicuramente uno dei miei classici preferiti è The Turn of the Screw cioè Giro di vite di Henry James Fenoglio diciamo più o meno tutto no in realtà è soprattutto una questione privata è il partigiano Johnny però anche sì facciamo così il mio autore preferito in assoluto è Dostoevsky il mio libro preferito di Dostoevsky è sicuramente Le notti bianche anche quello proprio al quale sono più legata e amo moltissimo Pavese soprattutto per La luna e i falò ma anche per Lavorare stanca e tante altre cose sono estremamente legata a Jane Eyre come sono estremamente legata a Orgoglio e Progiudizio perché sono parte della mia formazione e sono innamoratissima di Virginia Woolf e per me To the Lighthouse cioè Gita Alfaro insieme a Orlando ecco sono due di ho i brividi anche se non a parlarne sono due di quei libri che mi hanno aperto gli occhi e mi verranno in mente un sacco di altri classici ma ora mi sfuggono però sicuramente queste sono le prime cose che mi vengono in mente e mentre sto facendo editing mi sono ovviamente accorta che manca Lolita ovvero il mio classico preferito quindi dalla Tiffany del futuro spero sia tutto ma Philly mi chiede hai in programma un figlio? no G. Coleridge mi chiede farei un Feminist Friday o un podcast sulle Amazzoni? no non ce l'ho in programma perché ho troppi pochi collegamenti letterari o mi interessa il giusto però sicuramente le Amazzoni potrebbero ricapitare in un podcast non dedicato a loro ma come figura di un collegamento sto cercando di non fare spoiler delle cose che sto programmando allora In Glorious Erotica mi chiede hai mai letto letteratura erotica quali sono le tue considerazioni allora sì sicuramente ho letto però dei classici in realtà della letteratura erotica come Isto Ardò ho letto Almudena Grandes Anais Nin le mie considerazioni e ho appena finito per la gioia di Ruby Paura di Volare di Erika Young allora che dire secondo me sono letture che a me sono piaciute molto tra l'altro La Sedades del Lulu cioè L'età di Lulu di Almudena Scrandes fu il primo libro diciamo erotico che io ho letto e che viene comunque messo nella sezione erotica ma che in realtà non parla ovviamente solo di quello ma parla della crescita eccetera la mia opinione riguardo a tutto questo genere è che secondo me sono romanzi molto formativi in realtà per alcuni versi perché secondo me noi abbiamo un tabù sulla sessualità estremamente grande io ad esempio sono molto molto protettiva della mia vita privata e del mio vissuto personale però allo stesso tempo non ho problemi a parlare di sessualità perché trovo davvero che la sessualità sia qualcosa di cui noi dobbiamo parlare che non dobbiamo nascondere né vergognarci perché fa molto più parte della nostra vita noi veniamo da questa morale cattolica che ci fa vedere il piacere e la sessualità come qualcosa di sbagliato e negativo e del quale dobbiamo vergognarci assolutamente mentre in realtà sono cose che viviamo naturalmente chiunque è giovane sperimenta certe sensazioni approcci alla scoperta della propria sessualità eccetera eccetera e penso che forse sia più facile nella nostra società parlare di violenza che parlare di sessualità e quindi la letteratura erotica secondo me è una chiave che sicuramente fa da congiunzione anche per la scoperta può essere sicuramente qualcosa che ci dà una finestra verso la scoperta poi io non leggo spesso letteratura erotica nel senso che bisognerebbe poi capire anche cosa è uscito oggi o forse sono un po' indietro ecco però sicuramente è anche un modo per approcciarsi anche solo a pensare che non siamo gli unici a vivere certe situazioni e fidatevi che quando si è molto giovani anche questo aspetto che magari è spesso tabù è da una grossa mano e io insomma vedo la letteratura erotica anche da quest'ottica qua poi ci sarà anche tanto marciume che può essere diventare letteratura erotica da passatempo eccetera non c'è niente comunque di male penso di che è oggettivamente che è oggettivamente il nickname più bello della vita mi chiede farai ancora video su ansie simili personalmente li ho apprezzati un sacco allora vorrei ma mi è difficile innanzitutto trovare degli argomenti ce ne ho un po' in giro però ok e mi è difficile girarli quindi quando mi sentirò pronta li girerò perché questo è un anno dove io ho avuto moltissima ansia e parlarvi di ansia in maniera tranquilla mi fa sentire non so come dire disonesta perché io vorrei che cioè io sono una persona molto diretta molto trasparente cristallina se devo dire una cosa la dico non mi trattengo e l'idea di girarvi una cosa dove o vi rassicuro sull'ansia o vi parlo di alcuni aspetti non so mi mette ancora più ansia e quindi non vorrei girare un video di questo tipo Gianna Spattoli mi chiede ciao Miss Fiction vorrei aprire un mio spazio per parlare di libri ma come si fa a trovare coraggio di buttarsi consigliami tu persona sbagliata a cui chiedere questa cosa allora sinceramente secondo me buttatevi l'ho sempre detto anche a tutti quelli che mi avevano chiesto consigli in passato buttatevi perché l'idea di condividere le letture di trovare delle comunità di trovare delle persone con cui discutere di quello che si sta facendo si sta leggendo eccetera è qualcosa di molto forte online che magari nella nostra vita privata non abbiamo quindi buttate proprio via tutti i dubbi che avete perché tanto cioè allora con i libri soldi non si fanno chiariamoci se volete parlare di libri online i soldi non li farete mai quindi se la vostra intenzione è aprire un canale un account instagram non un blog perché siamo nel 2019 scusate a tutti voi che avete i blog però io parlo dal punto di vista marketing però se pensate di aprire questi canali e poi fare i soldi o voler puntare in alto diventare famosi no cioè non funziona così con i libri al massimo vi regaleranno dei libri fra un po' stop però il mio consiglio è comunque farlo perché io ad esempio ho iniziato aprendo instagram quattro anni fa ho conosciuto un sacco di persone meravigliose non solo in italia ma in giro per l'europa e mi ha fatto è stata un'esperienza bellissima e tuttora è un'esperienza bellissima sono stimolatissima a parlare di ciò che leggo e prima mi rendo conto che non avevo lo spazio per farlo e fatelo per questo fatelo per voi fatelo anche proprio per trovare un punto dove potete dire ok ho letto questa cosa non ne posso parlare con nessuno perché nessuno delle persone che ho attorno legge oppure magari una due quindi fatelo online fatelo perché vi fa bene e cioè non dovete avere paura di nulla tanto al massimo vi stancate dopo un po' e finisce lì allora Nico Decri mi chiede il libro e la serie a cui sei più legata è sicuramente a mani bassi Harry Potter sono banale molto banale però Harry Potter per me rappresenta qualcosa che nessun'altra serie ha mai rappresentato e forse ma neanche non è nemmeno paragonabile a Dal Dal è stata la mia formazione ma Harry Potter è stata è stata la serie che più mi ha formata nella mia vita sicuramente proprio che più mi ha ossessionata e se a 30 anni ancora mi vesto da pagliaccia è colpa di Harry Potter allora passiamo a YouTube che ci sono un po' di domande interessanti non so se te l'hanno già chiesto in passato ma mi piacerebbe molto sapere quali consigli dare se è una persona che ha intenzione di scrivere una buona storia fantasy di Fantagirò 95 allora non ne ho idea no non me l'hanno mai chiesto è difficile per me le cose da tenere d'occhio in una buona storia fantasy sono sicuramente partire da l'idea un'idea che deve comprendere tre aspetti che secondo me sono fondamentali voi direte grazie grazie alla e il primo è il world building dovete pensare a un mondo che sia credibile che ragioni secondo logiche anche pur essendo un mondo fantastico deve avere dei paletti logici perché se no il lettore cioè si perde il patto con il lettore il patto della lettura quindi se voi non date gli strumenti al lettore per decifrarlo ed è tutto boh a caso così perché tanto evento non funziona così quindi state molto attenti a costruire elementi fantastici che si poggiano su elementi logici che è difficilissimo mi rendo conto ma d'altronde non sono io che voglio scrivere dei libri quindi world building e sistema magico devono essere impeccabili cioè se voi vi immaginate un sistema magico dovete pensare che funziona così 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 stop non che a un certo punto però cambiamo perché ci serve per la trama cioè deve essere logico e anzi forse è il sistema magico che si deve inserire in un mondo e scontrarsi con le difficoltà di questo mondo seconda cosa personaggi ricordatevi che è un fantasy potente è un libro potente quando i personaggi lo sono e quindi non servono avere 800 milioni di personaggi non ci serve il cast del signore degli anelli ci serve però un cast di 1,2,3,4,5 personaggi quello che volete che sia credibile dove noi abbiamo dei personaggi solidi almeno questo sono i miei gusti in più la trama la trama deve comunque sempre tenere conto che non deve andare dove volete voi ma deve andare dove è imprevedibile che vada cioè nel mondo reale vorremmo tutti che le cose vadano come ci pare magari ma la vita è più complicata di queste dovete sempre tenere conto degli intoppi non andate dove volete che vada perché è comodo che sia così andate dove prevedete dell'imprevedibilità che so che è una contraddizione però tenete sempre conto che il piano deve avere intoppi il piano non può andare liscio e dovete tirare fuori i vostri personaggi dagli intoppi quello è un buon modo di scrivere non fare in modo che si vada a punto A a punto B a punto C a punto D e finita la storia comodoni è più complicata la vita di così insomma spero di avervi aiutato nel mio non sapere assolutamente scrivere allora Sebastian che adesso vado a riprendere che prima mi chiedeva come mi chiamavo mi chiede anche se avessi a disposizione una macchina del tempo in che epoca storica vorresti andare e perché io mi rendo conto che dal punto di vista estetico vorrei vivere in due epoche cioè l'epoca vittoriana sicuramente perché è l'apoteosi della mia estetica e gli anni 50 perché esteticamente mi piacciono moltissimo però devo dire che solo cioè non ci vivrei perché mi rendo conto di avere poca tolleranza per le regole poca un grandissimo istinto di ribellione diciamo e quindi mi rendo conto che in queste epoche non sarei sopravvissuta due giorni quindi meglio stare dove stiamo fidatevi allora Irene Sibilla mi chiede allora parte programma di scrivere un libro già risposto riprenderai registrare Feminist Friday? sì molto presto ne ho scritti tanti sono anche molto fighi secondo me quindi spero vi piaceranno devo solo girarli e che ve lo giuro ogni volta che devo registrare un Feminist ci devo andare con lo spirito al massimo perché metà dei miei Feminist mi creano veramente un'ansia esagerata perché sono argomenti molto pesanti da gestire ho anche tante idee fighe quindi spero che si realizzeranno queste collaborazioni che ho in testa e niente insomma arriveranno allora quali altri argomenti ti piacerebbe trattare nei futuri podcast allora futuri podcast per ora tratteranno sempre di creature chiamiamole così poi magari vediamo poi chissà chissà non lo so adesso il prossimo ve lo posso dire già che cos'è però non lo so vediamo no me lo tengo lì perché devo finire di scriverlo prima di dire che lo annuncio sennò poi mi arriveranno mille mila domande comunque un'altra creatura il prossimo mi chiede anche hai mai fatto sport quali allora io ho fatto per tanti anni ginnastica artistica ho giocato a calcio in una squadra maschile poi a dieci anni mi hanno detto che non potevo più giocare con i maschi e io mi sono annoiata a quel punto e ho detto beh ciao però intanto facevo anche ginnastica artistica ero discretamente brava ho giocato un po' pallavolo ma non è proprio il mio sport e poi ho fatto yoga tanti anni basta la mia attività sportiva finisce qui devo ricominciare a fare yoga quella è una dei grandi propositi che mi pongo da tipo 3-4 anni e ancora non ho mai fatto però devo perché ho tipo la schiena di un ottantenne allora Steve Lace mi chiede anche non ti ho mai sentita parlare di manga li leggi? se no che cosa non ti convince? se sì quali sono le tue serie preferite? allora ora praticamente io non leggo manga no togliendo praticamente a parte qualche cosa sporadica che capita raramente ma non leggo manga ma io ne ho letti tantissime quando ero adolescente sicuramente la mia serie preferita Braghe Calate era Nana era mia serie preferita ero basic bitch al 100% ma Nana era la mia preferita Death Note mi piaceva moltissimo Boys Bee Vampire Academy no Vampire Academy Vampire Castle non mi ricordo nemmeno il nome penso a quanto tempo è passato Fruit Basket ecco non mi veniva più in mente niente e insomma ne avevo tante ne seguivo tantissime poi non lo so sarà che spendevo troppo non c'avevo soldi eccetera eccetera però devo dire che comunque ne ho sempre letti tanti in realtà a me i manga piacevano molto in realtà poi dopo seguivo tantissimi anime nel frattempo perché è il periodo dove ero abbastanza fissata e sugli anime sono ancora molto più attiva sui manga proprio ho smesso dopo un po' perché erano davvero una cifra esagerata ogni mese da spendere io non li avevo non li ho mai avuti allora sabra moraldi mi chiede ciao tiffany hai mai letto va a metti una sentinella che è go set a watchman vero ok perché io sto leggendo e mi sta spaccando il cuore in un milione di pezzi in effetti allora non l'ho letto però ho letto il buio oltre la siepe che è bellissimo l'ho lessi alle medie ed è oggettivamente un libro meraviglioso che ti strappa il cuore e magari un giorno lo recupero anche go set a watchman dovrei dovrei va metti una sentinella in italiano scusatemi allora qual è il libro che hai preferito in assoluto come uscita quest'anno allora sicuramente per quest'anno per ora è the priory the priory of the orange tree di samantha shannon che sarà tradotto a dicembre in italia perché cinzia non credo che rientri nel 2010 penso sia uscito l'anno scorso io l'ho letto quest'anno e me ne sono innamorata quello è proprio il libro più bello per me quest'anno però libro graphic novel però insomma e poi però nei prossimi due mesi escono i due titoli che più attendo e non voglio portarmi sfiga ma ninth house starless sì allora samantha armstrong mi chiede quali sono i personaggi letterari contro cui ti scontreresti e invece quali sono quelli che proteggeresti ad ogni costo allora sicuramente io finirei a riempire di botte sia selena sardothian che fair della mass perché sono persone insopportabili tutto male cioè proprio sono le persone a cui io veramente mi tirano fuori la violenza da dentro e persone che proteggerai sicuramente c'è wyland dei sei di corvi perché va protetto wyland il mio bimbo piccolo allora marcy potter mi chiede invece ci sarà in futuro una recensione per il libro giden deninth di tamzin muir boh se lo leggo probabile allora francesca ruocco mi chiede vorrei aprire anche un account bookstagram e magari anche un canale da booktuber ma ho molti timori ci sono molti booktuber ormai nel 2019 secondo te è una scelta saggia provare oppure troppo tardi allora come dicevo anche prima apritelo fregatevene se siamo in tanti e poi non siamo mai abbastanza cioè se voi pensate agli altri ambiti non so al make up quanta gente fa make up milioni però per ognuno c'è il proprio la propria area quindi buttatevi fregatevene anzi più siamo meglio è vuol dire che c'è ancora speranza che la lettura si diffonda da qualche parte io ci credo molto lolly lolly mi chiede tiffany domanda secca cosa credi che ci sia dopo la morte assolutamente nulla era molto secca nella mia risposta forse troppo allora scusami Francesca Ruocco mi aveva fatto altre domande come sei diventata art director che ha aiutato il tuo lavoro come fotografo ci sei arrivata tramite altri canali allora io ho avuto molta fortuna nella mia vita diciamo che il mio lavoro è il risultato di tante cose che si sono mescolate nel senso che io faccio la fotografa da sempre io so che volevo fare la fotografa da quando ero adolescente molto molto giovane ho avuto la mia prima macchinetta che era la macchina di mio babbo che era una canon analogica avevo 14 anni quando ho iniziato proprio a sciappinare su tutte le varie rocce a pinare forse non è italiano vabbè comunque e poi ho continuato a lavorare come fotografa e intanto avevo iniziato a fare fotoritocco fotelaborazioni fa conto che quando io ho iniziato forse c'era photoshop 4 neanche cs cioè photoshop 4 forse mi sbaglio però versione del neolitico di photoshop e intanto avevo iniziato a fare le prime grafiche avevo fatto un po' di grafiche per varie robe insomma diciamo non sapendo fare la grafica mi improvvisavo a fare i volantini con photoshop che se ora ci penso mi viene un coccolone e dopodiché dopo continuate a lavorare come fotografa ma avevo già nella mia testa il fatto che non avrei mai fatto la fotografa perché non so a me mi hanno inculcato il classismo e quindi purtroppo chi non viene da una famiglia molto agiata non potrà mai fare la fotografa perché è un lavoro molto dispendioso e dopodiché vabbè ho studiato all'università dove in realtà ho fatto altro e poi sono approdata a questo corso regionale di grafica multimediale dove si faceva anche marketing e diciamo che ho scoperto di essere molto portata per il marketing ho scoperto di essere anche una brava grafica nonostante io non avrei di essere molto ricettiva e di riuscire a mettere in pratica molto velocemente ciò che imparavo perché fondamentalmente mi piace tantissimo e diciamo ho lavorato un po' di anni come grafica in studio in azienda eccetera e poi sono approdata nella quella che è tuttora ancora la mia agenzia e ci occupiamo di pubblicità ecco e quindi da lì diciamo io ho avuto la possibilità e l'opportunità anche di imparare molto quindi da fare semplicemente la grafica sono finita a gestire delle campagne pubblicitarie a fare delle strategie per i social fare delle strategie per il marketing online eccetera eccetera quindi mettendo insieme tutte queste cose io ho imparato a fare il mio lavoro cioè non è stato qualcosa di programmato che ho studiato per cioè io ho studiato poco per quello che faccio ma ho fatto tantissima pratica perché sicuramente un corso non ti insegna a lavorare ecco però diciamo che sono tutte cose pregresse che io ho messo insieme e che a un certo punto hanno avuto senso ecco poi mi considero una persona abbastanza sveglia e propensa al cambiamento quindi cerco sempre di non fermarmi di continuare ad approfondire studio tantissimo per il mio lavoro perché comunque fare l'art director digitale è un lavoro molto complesso perché le cose si evolvono continuamente e non lo so però diciamo che fondamentalmente ci sono arrivata per caso ma fondamentalmente questo caso mi ha fatto capire che non ero lì per caso che non ha senso però una buona base fotografica per me è stato l'inizio e anche proprio quei tentativi brutti che io facevo con photoshop sono stati davvero il mio inizio insieme all'attività di fotografa e poi dopo ho capito di avere molta molta predisposizione per la comunicazione ecco diciamo che ho avuto anche la fortuna che questo non è da poco di avere a che fare con persone che hanno visto in me queste queste capacità e che man mano mi hanno aiutato a svilupparle senza frenarle reprimerle senza farmi finire non lo so a fare cataloghi che non sono portata io sono la persona meno precisa che esista quindi non fatemi fare dei cataloghi però insomma penso sia chiaro insomma ci sono soprattutto oggi fare quello che faccio io non è qualcosa che si può imparare totalmente con l'istruzione ma è qualcosa che si impara con la pratica poi gli air director vecchi vi diranno ma cosa stanno dicendo ma ne sai neanche quello che sta facendo chiaramente non so neanche quello che sta facendo e a parte queste cagate che a voi non interessano sì vi direi di fare sperimentare tanto studiare tanto provare a fare insomma se volete fare i fotografi mi dispiace per voi perché è un lavoro infame molto bello vi darà tante soddisfazioni ma anche tante 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 insoddisfazioni e frustrazioni soprattutto però non lo so secondo me siamo in un momento storico dove più si è flessibili meglio è dove bisogna recepire tante tante cose dall'esterno studiare tanto soprattutto articoli online perché non c'è letteratura sul sul digitale su instagram sui social eccetera cioè ce n'è ma è già vecchia cioè appena voi leggete è già vecchia quindi non saprei come consigliarvi il mio è stato un percorso eretico e quindi vi consiglio di fare percorsi eretici nella vostra vita chiaramente non se dovete fare l'ingegnere o robe serie non che il mio lavoro non sia serio però sicuramente non prevede la penale sempre la prevede solo se facciamo dei danni a livello di gdpr allora Letizia Magnani mi chiede vorrei chiederti hai il pollice verde e tieni delle piante in casa il tuo fiore albero preferito ti piacciono gli insetti o non li puoi soffrire allora parto dal fondo no partiamo da subito affrontiamo la questione io so gestire molto bene l'orto dell'orto mi appassiona perché so che è un frutto che io dovrò mangiare ma ho il pollice nero cioè tutte le piante che hanno provato a vivere in questa casa sono morte anche le piante grasse quelle che non possono morire sono morte e la mia incapacità di prendermi cura di una pianta è una cosa che a me fa stare malissimo ve lo giuro più dei miei gatti i miei gatti sopravvivono è inspiegabile no non è inspiegabile c'è mio marito ma giuro che le piante sono una di quelle cose che boh è impossibile tra l'altro mia nonna con cui sono cresciuta che insomma era bravissima con le piante aveva tipo dei bougainville a Bologna che erano giganti eppure io non so gestire una pianta neanche per sbaglio le giuro mi dispiace mi dispiace un sacco perché mi piacciono ma poverine per farle sopravvivere non entrano in questa casa allora la mia fiore pianta preferita sono allora sicuramente fiore la peonia perché è proprio il mio fiore preferito e lo trovo bellissimo soprattutto le peonie bordeaux scure così erano anche nel mio bouquet del matrimonio ma a voi non interessa questo dettaglio e la mia pianta preferita è la felce tanto che ce l'ho statuata qua proprio perché la mia nonna la coltivava e quindi ha anche un legame affettivo con questa pianta oltre al fatto che è una pianta anche da un valore insomma quasi ancestrale per il mondo insomma la pianta più antica che esiste che è sopravvissuta vabbè ma comunque e invece l'albero preferito è la quercia perché la quercia è sempre in punti del bosco oppure è sempre non so la noti sempre cioè non puoi fare a meno di notare le querce e le trovo sempre splendide ecco io so poi sono molto fissata con la natura avrete visto dalle mie foto dove mi truffolo a fare foto nei boschi e le trovo sempre molto affascinanti allora ti piacciono gli insetti o non li puoi soffrire allora mi piacciono magari esagerato ma non ho neanche paura in maniera terribile diciamo che essendo cresciuta in campagna perché io vengo dalla provincia di Bologna in campagna non mi danno particolarmente fastidio amarli magari esagerato perché non mi ci vedo a gestirli però l'unica roba che proprio mi fa schifo gli scarafaggi e quegli animali tipo scarafaggi perché uguale sporco ecco quelli non li soffro tutti gli altri abbastanza indifferenti ecco Francesca G mi chiede ho notato che nella postazione dove registri c'è una chitarra a che età hai iniziato? hai dei consigli da dare a una chitarrista principiante? hai un chitarrista preferito? allora io suono la batteria quindi non so nulla penso di aver fatto due lezioni di chitarra quando ero piccola e non so fare niente quindi scusate se vi ho dato questa bruttissima impressione però mio marito fa il fonico e quindi casa nostra è piena è piena di strumenti è piena di cavi è piena di cose che hanno a che fare con la musica abbiamo a che fare entrambi con la musica siamo molto appassionati penso che sia uno dei suoi strumenti quindi purtroppo non posso darti una mano da questo punto di vista chitarrista preferito è interessante chitarrista preferito non saprei dirti adesso ci penso poi magari te lo scrivo giù nei commenti però purtroppo mi spiace ma casa nostra è piena di strumenti musicali cioppini vari tranne la batteria perché io ho la batteria elettronica purtroppo che tra l'altro è infilata tipo sotto il divano perché ogni volta che la dobbiamo montare dobbiamo smontare tutto il salotto vabbè comunque a me queste robe non interessano però sì io sono la batteria purtroppo so fare io faccio casino e basta dovevo trovare uno strumento che facesse casino come me niente per oggi questa era l'ultima domanda ho risposto più o meno a tutto quelli a cui non ho risposto insomma ci proverò magari giù nei commenti se avete ulteriori curiosità scrivetemi lì e se posso vi rispondo spero che questo Q&A vi sia piaciuto dopo tantissimo tempo e se non ci conoscevamo insomma spero che abbiate conosciuto un pelo più di me se volete altre curiosità vi invito a vedere anche gli altri che avevo già registrato in passato e niente io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che vi abbia fatto piacere questo video e direi che noi ci vediamo al prossimo ciao